John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Io sono rimasto basito, Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, voto alla scelta, lo diamo a fine video, ma di impatto zero, cioè nel senso, io voglio sapere come vi è venuto in mente di prendere Walter Mazzarri come allenatore del Napoli. Ora, non è cattiveria, non ho nulla contro Walter Mazzarri, sia chiaro, però io sono un po' uno che chiede la progettualità, non il bel gioco, non il bel gioco, se no non potrei parlare avendo io Giuseppe Murigno, ma la progettualità. E per me, tra la scelta di Garzia, l'addio di Garzia, il calcio a mercato del Napoli, il direttore sportivo e adesso che prendete pure Mazzarri di progettualità, siamo vicini allo zero, 0.7, 0.8, se dovessimo fare una stima della progettualità, è qualcosa di veramente, non lo so, aberrante. Allora, prima di iniziare, a parte, ripeto, mi sono messo la felpa dell'argentina, proprio perché bisogna parlare del Napoli e quindi è giusto così, vi dico che se arriviamo, guardate, siamo a 495.737 iscritti, portate questo numero a 496.000 iscritti e io vi prometto che vi porto la reaction al video nel quale appunto parlai dell'arrivo di Rudy Garzia a Napoli, quindi di tre mesi fa, per vedere insomma le stronzate che ho detto, per vedere come effettivamente si è chiusa la faccenda. dell'esonero di Rudy Garzia ne ho già parlato, ne ho parlato in un video molto molto lungo, più di 20 minuti di video, recuperatevelo, è inutile che adesso continuo a parlare, certo qualche dettaglio lo daremo nel video perché è giusto che se ne parli considerando che causa e effetto, però comunque ne ho parlato molto molto bene, in modo molto molto lungo e in due parole ritengo che, ok, la scelta poteva non essere delle migliori, però dal momento in cui la fai hanno sbagliato tutti, l'esonero è meritato, ma stai ribaltando un progetto in due mesi e per me ha poco senso, specie per la strada che il Napoli prende adesso. Per la strada che il Napoli prende adesso il progetto non esiste, cioè non ha alcun senso l'esonero di Garzia, da 1 a 10 ha senso 0 l'esonero di Garzia per aver scelto Walter Mazzarri. Oggi ho fatto un video su Simone Sickolf nel quale vi parlavo di tutti gli allenatori che avrebbero potuto andare a sostituire Garzia, c'era di mezzo anche Mazzarri, c'era di mezzo anche Cannavaro, ma c'erano anche Conte e Tudor, e poi c'era un'idea che davo io che era quella di Flick, ok? Sostanzialmente questo era un po' il punto su quello che sarebbe stato un possibile Napoli. Andate a recuperarvi anche quel video se volete, in cui vado ad analizzare squadra per squadra come avrebbero giocato tutte le squadre di ogni allenatore. Il peggiore per me sulla carta era Walter Mazzarri, io ve lo dico senza grossi problemi, certo forse a livello di esperienze il peggiore era Cannavaro, però sulla carta era forse il peggiore Walter Mazzarri. Perché dico questo? Perché innanzitutto è un traghettatore, è un traghettatore, ma in tutto e per tutto, cioè anche il contratto che gli è stato fatto in scadenza tra sette mesi, quindi a giugno, è da traghettatore. A lui va bene andare a Napoli, ci mancherebbe altro, non allena da una vita, non sta facendo nulla, sono soldi che prende, torna in alto, allena il Napoli, magari gli si apre anche la possibilità di allenare qualche altra compagine nelle prossime settimane, cioè nei prossimi mesi, quando tra sette mesi eccetera magari qualcuno la panchina gliela dà, quindi per lui è tutto di guadagnato. Ma prendere Mazzarri, ma ci rendiamo conto nel 2023 prendere Mazzarri con tutto il rispetto? Cioè è proprio l'idea sbagliata, perché tu dai la panchina in mano ad un allenatore che comunque tra sette mesi caccerai, che negli ultimi dieci anni, dopo il Napoli Mazzarri fece l'Inter e fa lì, vi ricorderete che è l'Inter? Fallì. Dopo l'Inter, lui negli ultimi dieci anni ha avuto tre parentesi, tre, ha allenato tre squadre e ha fallito quasi sempre, non sempre ma quasi sempre. L'unica cosa che mi facciano dare un iscritto sotto al video che potrebbe essere un vantaggio è il fatto appunto di aver allenato in Premier League il Watford e quindi magari un pochino con il nuovo calcio si è aperto il nuovo calcio, ha aperto gli occhi. Però raga, cioè di che stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè alla fine della fiera qual è l'obiettivo di cui dobbiamo parlare? Cioè tu stai prendendo uno che ha allenato tre volte in dieci anni e non ha allenato tre anni a squadra, alcune sei mesi, alcune un anno, cioè si è visto veramente, veramente poco. E la cosa che mi sorprende è che se io fossi napoletano, vi giuro, starei impazzendo negativamente, negativamente, è che tu hai buttato una stagione, la stagione in cui hai lo scudetto sul petto, tu hai deciso, hai deciso oggi di buttarla nel cesso a novembre. Cioè è questa la cosa che non riesco a capire. Tu sei la squadra che dovrebbe, tecnicamente, difendere il titolo, provare a tenerlo. Il Napoli per me non avrebbe vinto questo scudetto con quasi nessuno, ok? Cioè lo scorso anno hai alzato troppo la sticella, era difficile rimanere a quel livello lì. Per questo vi dico che per me era quasi impossibile riuscire a mantenere lo scudetto. Però l'obiettivo doveva essere quello. E un'inversione di rotta, salutando Garzia, poteva essere per l'appunto andare su un allenatore che ti aiutasse immediatamente a ricorrere per lo scudetto. Oggi, personalmente, ritengo che questo Mazzarri non te lo possa fare. Io ho letto che Mazzarri avrebbe garantito a De Laurentiis il 4-3-3. Ora, non è cattiveria, ma se prendi un allenatore che fa il 3-5-2, che non allena da 5 anni, 5 anni no, ma non allena da tanto tempo, che era fermo, che l'ultima offerta che aveva ricevuto, se non sbaglio stavo leggendo, era da una squadra egiziana, ok? L'ultima offerta che appunto poi aveva varato e rifiutato era da una squadra egiziana. Un allenatore che non è nostalgia, non allena una big da 10 anni, dall'Inter, da 10 anni, che non allena una big, e tu stai prendendo questo allenatore qua e gli chiedi anche, gli dici, fai il 4-3-3, garantiscimelo. Ma allora tanto valeva tenere Rudy Garzia? Cioè, allora tanto valeva non pagare un altro stipendio, non cambiare in corsa la guida tecnica, tanto valeva continuare a spingere dove stai spingendo. A questo punto dico, se prendi Mazzarri, cosa che per me è sbagliata, fagli fare il 3-5-2, fagli fare il 3-5-2, fallo giocare, e dopo lo andremo a vedere, con il suo 3-5-2, che magari vai a mettere delle basi anche per quello che potrebbe essere il futuro del Napoli. Il Napoli oggi non ha la possibilità, secondo me, di giocare 3-5-2, a meno che non se lo inventi il 3-5-2. Oggi il Napoli non ce l'ha la possibilità, però quantomeno capirei il cambio. A questo punto la mia idea è che quasi il Napoli si stia preparando per quello che sarà il colpo di giugno, e magari sarà un Antonio Conte. E io posso anche capirlo, no? Cioè, nel senso che tu hai la possibilità a giugno di prendere Conte, tu allora adesso prendi un traghettatore. Ma allora, ripeto, tanto valeva dire andiamo avanti con Garzia, fino a fine stagione comunque vada, e poi a giugno arriverà Conte. Cioè, cosa faceva Garzia? Picchiava i giocatori, non penso. Cioè, quindi qual è il problema? Tu vai a fare sette mesi di contratto? Ma a parte che io sono... Io vi dico la verità. Allora, io sono completamente contro i traghettatori. Per me i traghettatori sono la cosa peggiore che possa esistere nel calcio. Quando tu vai a prendere un allenatore per fargli fare il traghettatore, io posso capirlo e posso accettarlo, solo e soltanto. Vi faccio un esempio. La Juventus arriva a Natale, arriva a Gennaio anzi, che è seconda in classifica, che sta andando una bomba. Poi a un certo punto, non si sa perché, nelle dodici partite di ritorno, la Juve fa tre vittorie, cinque pareggie e quattro sconfitte. Quindi va in una crisi nerissima, in cui vince, poi pareggia, pareggia, poi perde, poi vince, poi pareggia, pareggia, poi perde, poi vince, poi perde, poi pareggia, pareggia, poi vince, poi perde, e poi perde. Ok? Ecco, in questo frangente qui, la Juve mi colleziona quattordici punti in dodici partite, e magari si trova più uno dal quinto posto, con i bianconeri che non sanno più come si vince, e la squadra che non segue più l'allenatore. A sette giornate dalla fine, in quella situazione lì, se tu vuoi prendere un traghettatore, perché dici, guarda, allora, Allegri non lo sta più seguendo la squadra. E vabbè. La squadra sta pericolosamente rischiando di andare fuori dalla zona Champions, ci serve uno che dica ai giocatori, ragazzi, io me ne vado a Junior, remiamo tutti dalla stessa parte, così il prossimo allenatore potrà andare in Champions. Quello è un altro conto. Siamo a marzo, siamo ad aprile, stai per chiudere la stagione, è un altro conto. Ma adesso, ragazzi, siamo al 14 di novembre, sono state giocate 12 partite, cioè ne mancano 22, 32, ne mancano 26 di partite, cioè tu stai dando la panchina per 26 partite in mano a Mazzarri, che vedi, perché questo l'hai deciso tu, eh, io non sto dicendo niente, tu hai detto, tu hai detto che hai fatto un contratto di sette mesi, perché tu vedi, lo vedi come traghettatore, lo vedi tu come traghettatore, tu stai dando a un traghettatore in mano la panchina del Napoli per 26 partite. Cioè, ci rendiamo conto, cioè ci rendiamo conto della situazione. Il Napoli non è fuori dalla Champions League, il Napoli è dentrissimo la Champions League, il Napoli non è fuori dalla zona Champions, il Napoli è dentrissimo la zona Champions. E vi dico, ora, adesso, arriva Mazzarri, basterà Mazzarri per arrivare nei primi quattro posti? Sì, ma bastava anche Rudy Garzia, ma banalmente, manca, bastava anche Rudy Garzia e l'unica cosa che posso provare a spiegarmi è dire, guarda forse, allora, prendi Mazzarri perché fa il 3-5-2 e, anche se il Napoli adesso fa fatica a farlo, sarà un anno di adattamento affinché poi a giugno arriva un Antonio Conte o un Roberto De Zerbi che fanno il 3-5-2 e hanno, non dico la pappa pronta, ma la squadra già un pochino rodata. Ci posso stare, sebbene questo, ripeto, è un discorso che io faccio a marzo, che faccio a febbraio, fine febbraio, che faccio ad aprile, certamente non che faccio a novembre perché tu a novembre dopo 12 partite da campione d'Italia, 12 partite in cui hai indossato la maglia da campione d'Italia in Serie A, hai già preso un traghettatore. Cioè, per me è una cosa impensabile. Per me è una cosa veramente, 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 veramente impensabile, ragazzi, il fatto che io debba leggere che la tua idea è quella di fargli fare il 4-3-3. Ma allora mi prendevi Leonardo Semplici, ma allora mi tenevi Rudy Garzia, non mi andavi a prendere un traghettatore che non ha né capo e né coda, tenevi Garzia, fine stagione, a fine stagione lo suoneravi, stop. Qual era il problema? Cioè, se gli fai fare il 4-3-3 come avresti fatto con Garzia, qual era il problema? Il Napoli non era decimo, non è decimo il Napoli, il Napoli che è quarto, è quarto se non sbaglio il Napoli. Cioè, in Champions League il Napoli è un passo dal passaggio del turno. Certo, sta faticando, è meno bello dello scorso anno, ma con Mazzarri sarà più bello. Non lo so, non lo so, forse si virerà tutti dalla stessa parte, ma non so se con Mazzarri sarà più bello. Io vi dico, io mi auguro almeno questo, che il Napoli faccia il 3-5-2 e adesso lo andiamo a presentare il 3-5-2 di Mazzarri. Eccolo qua, lo andiamo a leggere insieme. Meret tra i pali, Nathan, difensore centrale con Ostigard da una parte e Rachmani dall'altra. Qualcuno mi dirà, Sik, ma come si fa a fare la difesa 3 se il Napoli ha solamente Ostigard Nathan e Rachmani e poi c'è Juan Jesus? Juan Jesus è perfetto da braccetto, quindi può fare il primo panchinaro da braccetto. Aggiungo anche che questo Napoli con la difesa 3 può far volentieri giocare anche Mario Rui da braccetto sinistro. Lo può fare perché ha quelle caratteristiche lì. E quindi volendoli poi sulla sinistra giocherebbe Olivera con Mario Rui da braccetto. Lo fa Alexandro nella Juve, lo fa Di Marco nell'Inter, ogni tanto adesso non lo fa più, lo faceva, lo fa Darmianna a destra, lo fanno in tanti, lo fanno veramente in tanti, a Roma lo fa Selic, quindi non è un problema fare il braccetto di destra, ok? Cioè se tu sei propenso per difendere e Mario Rui è propenso per difendere lo sai fare. Quindi Lobotka in mediana, Anghi sei zielischi come mezzali, Mario Rui e Di Lorenzo sulle due fasce e poi Kvarashkelia vicino o dietro a Vittorio Simen e davanti tu avresti anche Raspadori come vice di Kvarashkelia, Simeone come vice di Ossimen però insomma anche qua sei molto dubbioso sul ruolo che potrebbe avere Lindstrom, sì, seconda punta ma Lindstrom gioca più sulla non lo so continuo a non convincermi appieno ok? È magari quello che allora se tu è questa squadra Conte se tu prendi Conte fa il 3-5-2 Conte ti dico vabbè sai che c'è mi va bene cioè ok è difficile però è Conte anche Kvara in quel ruolo là ora permettetemi di dire che abbiamo visto Leao abbiamo visto Leao da seconda punta o da tre quarti si è sempre faticato oggi ne parlavo in quel video là in cui analizzavo le possibilità dei ruoli del Napoli e dicevo proprio questa cosa qui dicevo Leao ha faticato quando quando non gli è stata data la possibilità di spaziare e di cercare la profondità la profondità è sempre stata appunto la parte di esplosività maggiore di Leao e in parte Kvara è molto simile a Leao è molto tecnico Kvara è veramente molto tecnico però credo che da seconda punta quindi non avendo spazio sulla sua fascia ma dovendo muoversi nello stretto possa essere un po' più limitato cioè questo sistema di gioco qua avrebbe meno senso ok specialmente per le caratteristiche di questo Napoli perché Ostigard non è un centrale da difesa 3 Nathan uguale Rachmani lo ha fatto anche se non è un centrale da difesa 3 Mario Rui non è un esterno di centrocampo Di Lorenzo non è un esterno di centrocampo Kvara non è una seconda punta Simen non è una prima punta da accompagnamento bensì centrale o comunque così è sempre stato quindi non lo capisco cioè non capisco l'idea non capisco proprio l'idea e per questo vi dico se poi viene Mazzari a fare cioè Mazzari viene ma se viene a fare il 4-3-3 è tanto Tenevi Garzia cioè se non c'è proprio manco l'impronta di voler cambiare idea di fare un contratto di 7 mesi e di andare a prendere un allenatore che comunque non allena da alti livelli da 10 anni è tanto Tenevi Garzia io sperimentando ho provato a dire anche quale sarebbe sempre un po' secondo me sacrificando Kvara in realtà il sistema tattico perfetto per il Napoli e mi viene in mente di dire che è questo qua 4-2-3-1 sacrificandolo ma fino a un certo punto dove però tutti i calciatori che vedete qua tutti secondo me sono messi nel loro ruolo perfetto cioè Meretti in porta chiaramente è nata nel raccamani come difensore centrale di Lorenzo Basso a destra Mario Rui o Oliveira a sinistra Lobotke Angissan nel doppio mediano anche perché è vero che Lobotke è il mediano ma Angissan si abbassa sempre quindi ok sulla tre quarti Lindstrom o Raspadori e così facendo tu avresti la possibilità di andare a giocare o con Lindstrom o con Raspadori ma mettendo a proprio agio questi due calciatori che non hanno ancora capito dove cazzo devono giocare che Lindstrom però ce lo fanno giocare da mezz'ala a destra cioè non ha alcun senso oppure ala e anche questo insomma se invece ha poco senso Raspadori è un giocatore che gioca davanti ma se giocasse da tre quartista avrebbe molta più possibilità di mostrare di se stesso Cavara a sinistra che ha il suo ruolo Politano a destra che ha il suo ruolo e Osimena davanti questo per me e io vi avevo detto nel video che per me il nome perfetto era Flick perché Flick ti gioca così ha vinto tutto e prova di invertirti immediatamente cioè tu prendi Flick e dici ok il Napoli rilotta per lo scudetto poi magari non lo vince ok però magari hai anche quell'impressione di poterlo fare l'idea di prendere Mazzarri che senso ha? qual è il senso dell'idea di prendere Mazzarri? io vi dico voto 4 ma perché 4 e mezzo ma non perché Mazzarri farà male perché tu tra il voler osare e la mediocrità hai scelto la mediocrità allora se dove ma non ripeto non voglio dare del mediocre a Mazzarri sto semplicemente dicendo che la storia recente racconta questo quindi se tu hai preso un allenatore che già c'è già stato 10 anni 11 anni fa perché ti serve che ti dia una mano e tutto quanto può andare anche bene ma in una situazione grave dove arriverà il Napoli con Mazzarri? vi dico il giro ne lo passa se gli va bene al sorteggio arriva ai quarti di Champions se gli va male arriva agli ottavi di Champions secondo me poi dipende molto dal sorteggio il campionato arriverà tra il terzo e il quarto posto e voi direte è una buona stagione sì sarebbe stata uguale anche con Garzia con Garzia il Napoli sarebbe comunque arrivato tra il terzo e il quarto posto a mio avviso più sotto di quello non sarebbe arrivato avrebbe comunque passato il girone di Champions che tra l'altro stava passando poi bisognava capire chi avrebbe beccato per fortuna o sfortuna agli ottavi di Champions però questo era il discorso questo era il percorso che avrebbe ugualmente fatto anche il Napoli di Garzia per questo vi dico tu andando a cacciare Garzia e a prendere Mazzarri hai dato solamente un po' di importanza ai tifosi che volevano cacciare Garzia va bene però sei sempre da capo a 12 sei sempre lì sei sempre lì e qual è allora l'obiettivo? perché io personalmente non vedo una progettualità non la vedo continuo a non vederla mi dispiace e tutto ciò che il Napoli di Spalletti di Giuntoli e di De Laurentiis perché chiaramente è molto importante il lavoro è stato molto importante il lavoro di De Laurentiis per lo scudetto ecco tutto quello che avevano fatto per arrivare al tricolore secondo me giorno dopo giorno viene smontato ed è assurdo perché di fatto l'unico uomo in squadra perso dallo scorso anno è Kim hai preso Nathan che poteva essere un giocatore molto molto valido e può ancora esserlo però hai perso il direttore sportivo che legava tanto hai perso l'allenatore che faceva tanto e adesso il Napoli sembra allo sbando io non me ne capacito fatemi sapere la vostra vi ricordo che se volete il video reaction all'arrivo di Garzia arriviamo a 496.000 iscritti arriviamoci anche entro domani così domani mattina alle 10 e mezza così ve lo porto buascialalala iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video